Ciao, la chiave del Vangelo oggi è la fiducia, fiducia che c'è intorno di Gesù, fiducia che non è ovvia, fiducia che costa tanto, perché fiducia è quando non vediamo che sarà bene, non possiamo vedere, non possiamo come vedere i segni che sarà bene, ma decidiamoci su questo passo. E così Maria anche dice, fate questo che dice Gesù, anche se Gesù sembra non voler, non poter fare questo che è desiderato da lui. E poi la persona che porta questo che sa che c'è l'acqua sul tavolo, anche quella non può, non vede nessun segno, nessuna indicazione che questa acqua può diventare vino. Quindi penso che questo Vangelo vuole invitare noi, soprattutto in momenti duri, in momenti brutti, in momenti nuvolosi, pieni di dolore, in momenti scuri della vita, di avere la fiducia, perché fiducia non è qualcosa che proprio viene naturale come bimbo abbracciato dalla mamma a fiducia. Fiducia di quello che parla oggi Vangelo è qualcosa che supera la situazione attuale, così penso io. Grazie.